Ti diamo il benvenuto nell'Anagrafe Nazionale, la banca dati del Ministero dell'Interno che favorisce lo scambio delle informazioni tra comuni e pubbliche amministrazioni e il dialogo tra comuni e cittadini. Con ANPR, le persone residenti in Italia o iscritte all'AIRE, accedendo alla piattaforma con l'identità digitale CIE, CNS o SPID, hanno l'opportunità di comunicare con gli uffici anagrafici dei comuni per richiedere una rettifica dei dati o per dichiarare il cambio di residenza, oppure, in totale autonomia, visualizzare i propri dati e chiedere un certificato anagrafico. Gli enti e le pubbliche amministrazioni potranno accedere alle informazioni anagrafiche necessarie allo svolgimento dei propri compiti istituzionali. L'Anagrafe Nazionale migliora il rapporto tra cittadino e istituzioni con servizi semplici, gratuiti e facili da utilizzare. Garantendo la privacy e la riservatezza del dato. Anagrafe Nazionale. Unica per tutti.